Il lavoro è come l'isola di Peter Pan, non c'è. Recita così un allegro e provocante post del social network di Facebook nel giorno del primo maggio dedicato alla festa dei lavoratori. Una ricorrenza che in questo momento di crisi e precarietà occupazionale porta con sé un interrogativo. È la festa dei lavoratori o dei disoccupati? Il primo maggio festa dei lavoratori o dei disoccupati? Dei disoccupati, purtroppo sì. Un tempo difficile questo? Un tempo difficile, sì. Festa dei lavoratori o dei disoccupati? Dei disoccupati. Studentessa quindi non ancora entra nel mondo del lavoro. Però non è facile oggi entrare? Brutte prospettive davanti. Festa dei disoccupati. Che lavoratori? Chi lavora oggi? Stiamo a guardare qua in piazza che fanno i motorini. Noi siamo da due anni senza lavoro. Non interessa a nessuno. Questa è la festa di oggi. Primo maggio festa dei lavoratori o dei disoccupati? Disoccupati. Il dramma della disoccupazione quest'anno si fa sentire ancora di più? Sì. Che cosa? Come rilanciare il lavoro secondo lei? Facendo una politica diversa. Versi i lavoratori. Dei disoccupati. Assolutamente. Purtroppo. Il dramma della disoccupazione quest'anno si fa sentire più degli altri anni? Sì, ma penso che ormai è già un po' di tempo che succeda che sia così la situazione. Speriamo che l'unica cosa è che più giù di così penso sia difficile. Secondo un sondaggio diramato qualche giorno fa da Maurizio Spina, segretario generale Cisla, Bruzzo Molise, la nostra regione dal 2008 al 2013 ha perso quasi 30.000 occupati. I dati Istat relativi all'ultimo trimestre 2013 dicono che i disoccupati oggi sono esattamente il doppio, 63.000 contro i 32.000 del 2008 e il tasso di inoccupazione ha raggiunto la soglia dell'11,4%, mentre quello giovanile è in aumento di quasi 5 punti percentuali, passando dal 33% del 2012 al 37,7% dello scorso anno. Dati non molto rassicuranti, ma perdersi d'animo, sostengono alcuni, non è una buona soluzione. Festa dei lavoratori o dei disoccupati? Speriamo dei lavoratori, speriamo per il futuro dei lavoratori. Adesso ci troviamo in una situazione un pochino difficile, poi si deve lavorare perché in futuro diventi sempre di più la festa dei lavoratori, torni a essere quella che era in passato per Sulmona. Poco importa quanto il proprio lavoro sia prestigioso, sicuro e redditizio, oppure se effettivamente sia quello per cui si è studiato, oppure quello che si sognava da bambini. Ogni lavoro può essere dignitoso e anche migliore del mondo, purché sia onesto e svolto con passione. Aguri dunque a quei pochi che oggi lavorano e nonostante tutto debbono combattere con le ingiustizie sociali. In bocca al lupo invece a quanti sono in cerca di lavoro in questo momento difficile.